In considerazione dell'emergenza coronavirus, Credito Valtellinese, presente in diverse aree che presentano una situazione difficile, ha attivato iniziative straordinarie a sostegno delle imprese e famiglie clienti. Da oggi e per i prossimi 12 mesi tutte le famiglie potranno richiedere la sospensione della quota capitale dei mutui ipotecari. Analogamente le imprese potranno ottenere la sospensione della medesima quota, fino a un massimo di 12 mesi per i mutui ipotecari e chirografari con durata superiore a 18 mesi e fino a un massimo di 6 mesi per i mutui chirografari con durata inferiore a 18 mesi, nonché l'annullamento della durata fino a un massimo di 120 giorni delle cambiali agrarie. Con questa iniziativa rimarca la nota dell'Istituto di Piazza Quadrivio, Creval intende rinnovare la vicinanza ai propri clienti e perseguire la mission di banca commerciale focalizzata al sostegno di famiglie e PMI nei territori in cui opera come annunciato nel piano industriale 2019-2023.